è arrivato un bel pacco consistente e abbastanza pesante questa qui è una collaborazione che parte in questo 2021 vi dico subito che per questa collaborazione io non ho ottenuto nessun compenso tranne l'invio a titolo gratuito di questo attrezzo che adesso andiamo ad aprire e vediamo di che si tratta eccolo qui Olight per un 2 scopriamo che cos'è è una lampada frontale da pesca qui già sullo scatolo bel packaging 5 anni di garanzia Olight è il produttore per un 2 il modello andiamo a vedere qualche caratteristica vedete ci sono le varie modalità abbiamo fino a un massimo di 2500 lumens col turbo high 500 lumens medium 120 lumens low 330 lumens moon 5 lumens ok quindi andiamo ad aprirlo e vediamo il contenuto semplicissimo benissimo qui una volta aperta la confezione abbiamo un ringraziamento da Olight team questo qui ed ecco la nostra lampada questa lampada ha una particolarità eccola qui vediamo cos'altro contiene la confezione abbiamo il cavetto di ricarica che è molto particolare perché è magnetico ok basta praticamente avvicinarlo e si attacca quindi questo poi si attacca all'USB USB tipo classico eccolo qui quindi questa basterà attaccarla così poi c'è un laccetto nel caso dovessimo utilizzare questa lampada come lampada da tenere in questo modo questo è il pulsante di accensione quindi il laccetto vediamo se c'è qualcos'altro ed eccola qui la nostra fascia da testa e le istruzioni un bel corposo libretto di istruzioni come farla funzionare con le specifiche tecniche ok questa è la nostra fascia da testa che come vedete è tripla quindi si indossa in questo modo con questa parte che starà nella parte superiore della nostra testa e qui davanti abbiamo la parte frontale dove va inserita la nostra lampada quindi togliamo questo togliamo questo prima di inserirla va tolta la graffetta questa qui ok si toglie e si mette questa qui si può mettere praticamente così o così perfetto ecco questa qui è la nostra lampada frontale si svita dalla parte superiore ecco la batteria una batteria molto grossa da 4000 mAh 3,6 volt ricaricabile a litio naturalmente questa è una lampada stagna quindi non dovremo preoccuparci arrivata in battuta così di eventuale pioggia o altro proviamo ad accenderla eccola qua perfetto adesso andiamo a scoprire quali caratteristiche questa lampada possiede e quindi come possiamo fare ad avere le diverse intensità di luce allora andiamo a vedere le varie funzionalità che ha questa lampada che per prima cosa la possiamo utilizzare praticamente tenendola in questo modo quindi accendendola ecco oppure come abbiamo visto prima con la nostra fascia frontale utilizzarla a pesca quindi abbiamo già questa doppia funzione il tasto per farla funzionare uno solo abbiamo la possibilità di accendere e la modalità memorizzata quando l'abbiamo spenta la prima volta rimane quindi se abbiamo una luce media o alta in questo caso vediamo che abbiamo una luce abbastanza forte spegnendola basta premere una volta solo e si spegne possiamo anche bloccare il pulsante tenendolo premuto farà una luce e si spegnerà quando andremo a premere il pulsante la lampada non si accende ma si illuminerà solo tenendo premuto il pulsante questa è la modalità bloccata poi possiamo di nuovo premere per circa due secondi e si ritorna alla modalità luce bassa come vedete quindi poi basterà premere e si spegne in questo caso se vogliamo subito il turbo quindi vogliamo una luce forte una volta che è accesa premiamo due volte e otteniamo una luce turbo come vedete fortissima basterà premere e si spegne quindi riaccendendola ripartiremo dalla modalità turbo ovvero dalla luce più forte abbiamo poi un abbassamento dell'intensità luminosa perché c'è qui un sensore questo qui a infrarossi che rileva l'avvicinamento di ostacoli e quindi farà abbassare automaticamente la luce in modo tale da non avere l'effetto accecamento quindi ogni volta che noi andremo a premere di conseguenza abbassiamo e andiamo in un altro stato della luce ci basterà fare più volte clic e abbiamo praticamente il turbo spegniamo riaccendiamo il turbo premiamo due volte e si abbassa l'intensità luminosa quindi possiamo andare a scegliere la nostra intensità luminosa semplicemente cliccando sul tasto qui davanti avvicinandoci l'intensità luminosa diminuisce e quindi abbiamo la possibilità di avere una luce che non ci accecherà quando ci avviciniamo a qualcosa per guardarla da vicino mentre allontanandoci si ritornerà alla luce precedente ok questa qui non ci rimane che andarla a provare in pesca io devo dire che spesso dimentico la lampada ringrazio Light per avermi inviato questo strumento perché così avrò a portata di mano dato che ci farò diverse prove abbiamo visto già all'inizio del video qualcosa un fascio di luce molto molto potente semplicità nel ricaricarla perché basta praticamente andare ad appoggiare questa qui abbiamo la possibilità di attaccarla in maniera frontale grazie a questa fascia con l'adattatore basterà metterla in questo modo così io naturalmente la lascerò sempre qui praticamente e poi possiamo regolare no perché questa qui andrà a girare sul nostro adattatore in questo modo la direzione del fascio luminoso semplicemente girandola quindi non ci sono nemmeno meccanismi che andranno ad inficiarsi poi nel tempo come succede per altre lampade io prima ne avevo una ancora funziona ma ho dovuto attaccarla con due fascette perché non riuscivo più a regolare la posizione ormai è diventata una posizione fissa questo invece abbiamo la possibilità di regolare il nostro fascio luminoso ferma in fronte girando semplicemente la lampada ok e la luce devo dire è davvero potente quindi la andremo a provare in pesca vi faccio vedere come illumina completamente al buio anche qui ma la prova sarà quella che faremo poi in pesca questa è la luce media abbiamo già una ottima fonte luminosa questa è solo la lampada che sta illuminando siamo quasi nell'oscurità completa e questa è la turbo ok ora andrò a ricaricarla così vi indicherò nel video anche i tempi di ricarica completa reali non ci rimane che andarla a provare in pesca così finalmente potrò utilizzare una lampada per avere anche la possibilità di registrare qualche video notturno vedremo come si comporta faccio solo un'ultima cosa molto importante per noi pescatori ovvero andrò a vedere quanto pesa che l'avremo naturalmente sulla parte frontale bene meno di 200 grammi quindi il peso non è considerevole anzi per la qualità costruttiva perché il materiale è tutto alluminio vi ricordo che è resistente agli schizzi d'acqua resistente all'acqua si carica in maniera semplice grazie all'attacco a calamita quindi questa qui è la Olight Perun 2 che mi accompagnerà nelle mie prossime pescate al calasole oppure prima dell'alba e andremo a vedere in pesca come si comporta Olight Perun 2 ok stamattina ho con me la lampada della Olight la Perun 2 ancora non è giorno come vedete non si vede niente la accendiamo e l'abbiamo già con la luce bassa un ottimo visuale faccio vedere mettendo il turbo ecco veramente un'ottima visuale guarda accogliarissima si vede fino a sotto naturalmente non si serve così potente la luce ma possiamo scegliere l'intensità scelgo questa bassa per poter riuscire a pescare senza disturbare troppo si può scegliere naturalmente un'intensità media e un'intensità alta eccolo qui queste qui sono le tre modalità la quarta che è la turbo che è questa qui bene metto l'intensità bassa ok link in descrizione ok stamattina abbiamo bellissime condizioni è alzata la tramontana vediamo questa bella in omocizione per un 2 ora spegniamo siamo nella completa oscurità mischiamo sì allora